Digi e Lode, così è denominato l'innovativo progetto del gruppo ERA che mira adottare gli istituti scolastici di nuovi strumenti digitali. Scegliendo di utilizzare uno o più servizi posti gratuitamente a disposizione da ERA, clienti, famiglie e cittadini potranno accumulare punti convertibili in contributi economici per le scuole allo scopo di finanziare progetti di digitalizzazione tra gli istituti scolastici premiati del territorio, anche la scuola primaria Carducci III Circolo di Cesena. L'attivazione dei servizi digitali di ERA permette di premiare le scuole della propria città. Come funziona in concreto il progetto Digi e Lode? Il progetto funziona in questo modo. Tutti i nostri clienti che attivano o mettono in essere dei comportamenti digitali, del tipo chiedo l'invio elettronico della bolletta invece che ricevere la cartacea, scarico la nuova app Maiera che mi consente dal telefonino di gestire i miei servizi, mi scrive ai servizi digitali, consentono di accumulare punti che ERA, col progetto Digi e Lode, ha deciso di devolvere alle scuole per incrementare o comunque integrare le attrezzature digitali a supporto dei processi didattici e dell'attività scolastica. Abbiamo avuto la segnalazione per 500 scuole che hanno accumulato punti, di queste 500 abbiamo stilato una classifica di 20 scuole che sono le prime a essere premiate, tra cui questa di Cesena e prossimamente saranno individuate altre 20 scuole a cui verranno assegnati premi il premio di 2.500 euro appunto per l'acquisto di attrezzature digitali. Questo progetto prevedeva che i clienti che accumulano punti potessero dedicare o comunque devolvere i punti a delle scuole in particolare, tra cui appunto queste 500 oppure potevano anche accumulare punti ed evolverle genericamente alle scuole del territorio. È un'iniziativa di responsabilità sociale che si prende per ritornare al territorio privilegiato di questa azienda, un valore che sia un valore condiviso. Quindi i cittadini, i nostri clienti fanno qualcosa per noi e per l'ambiente e noi ritorniamo diciamo al territorio sotto forma diciamo di valore a supporto sociale oppure in questo caso didattico al territorio appunto del valore aggiunto. Il valore assessore di questa iniziativa non è esclusivamente di tipo economico? No, il valore è ben più economico, è un valore che va a stimolare questa scuola che si è giudicata vincitrice ma anche tutte le altre scuole che hanno partecipato verso una ricerca di valori che vadano a raccogliere i temi della raccolta differenziata, i temi del riciclo, i temi del riuso, i temi del digitale e i temi della sostenibilità in senso più ampio. Quindi con questa idea, con questo concetto ringraziamo ERA che ha supportato questo progetto, ringraziamo la scuola che ha partecipato ma soprattutto ci stimola a riflettere come su questi temi bisogna lavorare tutti i giorni, bisogna lavorare con i cittadini, bisogna partire dai cittadini come singoli unità familiari, come singoli individui perché ognuno possa dare il proprio contributo e possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi che come città ci siamo prefissati. DigiELODE permette un ulteriore sviluppo della cultura digitale collegata al mondo delle istruzioni delle generazioni future. Come impiegherete il premio pari a 2.500 euro ricevuto dal gruppo ERA? Bene, noi il premio lo impiegheremo nell'acquisto di pannelli multi-touch che sono l'ultimo ritrovato, l'ultimo strumento tecnologico che ci consente di sviluppare approfondimenti sia in ordine alla creatività dei bambini che alla progettualità. Pannelli che inseriremo sia nelle aule che nel nostro atelier creativo che è finalizzato proprio all'approfondimento e allo sviluppo delle competenze di creatività dei bambini. C'è da dire che lo strumento digitale di per sé è uno strumento neutro, può diventare un buon strumento o un cattivo strumento in base all'uso che se ne fa. Se gli insegnanti abituati ad usarli in modo appropriato per lo sviluppo di competenze che sono di umanità diventa uno strumento importante, utile, fondamentale, essenziale direi anzi per la didattica. Se invece se ne fa un uso sconsiderato, non competente, inadeguato diventa uno strumento assolutamente dannoso che rischia di annullare i rapporti umani. Questo è quello che noi non vogliamo in questa scuola e ringraziamo ERA per il contributo che ci ha dato perché ci aiuta ad approfondire, a sviluppare quel percorso di digitalizzazione che umanizza le persone, che le rende più umane e che le rende più creative e che crea maggiori competenze rispetto a quelle che normalmente si ottengono.